1969, guerra del Vietnam. Il mondo scopre il massato di Nhi Lai. 1989, il segretario del PC Occhetto annuncia la svolta della Bolognina. 2003, la strage di Nasseria. Commenta il fatto del giorno Don Antonio Rizzolo, direttore di Famiglia Cristiana. 90 anni fa nasceva la grande attrice e poi principessa Grace Kelly.